Alla quarta edizione bresciana di Smart Future Academy presenti molte aziende associate a Coldiretti, tra queste anche l'impresa agricola remondina, attiva nel settore dell'allevamento avicolo, attenta al territorio e alla sostenibilità ambientale. Dai nostri microfoni Mattia Preti, titolare dell'impresa. La nostra impresa si occupa di allevamento avicolo, il senso di questa giornata e la nostra presenza è dato dal fatto di poter mostrare ogni giorno cosa facciamo nei nostri allevamenti, la tecnologia che applichiamo, soprattutto per una ricerca di personale sul futuro, cosa che diventa sempre molto difficile. Il messaggio che vogliamo lanciare ai giovani è quello che se c'è agricoltura, se c'è allevamento fatto con i metodi sostenibili ambientali c'è un territorio curato e tutto funziona bene, altrimenti siamo davanti a fenomeni di desertificazione, avanzamento del bosco e di fauna non controllata. Quello che chiediamo noi giovani è di avvicinarsi di più e essere più curiosi al nostro mondo, che c'è un mondo da scoprire e un futuro da coltivare.